Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning Oggi vi faccio vedere un prodottino interessante che andrò ad applicare sul Beamer Dato che sto facendo una sorta di all black o comunque sto cercando di rendere un look un po' più aggressivo al Beamer Ho deciso di comprare inizialmente degli stemmi nuovi per il Beamer Soltanto che sono arrivati e non mi piacciono moltissimo E non mi convincevano quindi se una cosa non mi convince io non la monto E tant'è che ho comprato un altro prodotto che voglio provare e mi sembra molto più fattibile come cosa Dato che sto facendo quindi una sorta di all black ho deciso di comprare degli adesivi semplici adesivi neri Che andranno a coprire diciamo i triangolini del classico logo Beamer che vedremo più avanti Mi sono arrivati oggi li ho comprati su Amazon e costano veramente poco Vi lascio i link in descrizione in quanto comunque mi sembrano fatti molto bene Quindi lo sapete quando una cosa mi piace mi piace portarla sul canale e lasciarvi comunque un modo per acquistarla anche a voi Quindi vi faccio vedere questi non sono nient'altro che gli adesivi sono per tutti i loghi della macchina Quindi da quello anteriore e posteriore per i cerchi e per il volante dovrebbero essere tutti Inoltre li fanno anche di altri colori, di altri stili per esempio in carbonio, nero opaco eccetera eccetera Li ho trovati su Instagram, su Amazon, sono molto buoni questo Vi lascio diciamo il link se volete andare a vedere Ma il sito è un sito tedesco che poi ci rilascia anche una leggendina e diciamo una sorta di guida per l'installazione degli adesivi Che io puntualmente non ho letto, non mi interessa tanto Ho il mio metodo collaudato per mettere gli adesivi Che non è nient'altro che l'utilizzo e l'alcol isopropanolo o isopropirico Quello che cosa sia, per andare a pulire bene i loghi o comunque la superficie dove dobbiamo andare ad applicare l'adesivo Dopodiché lasciamo asciugare quei 2-5 minuti e poi andremo ad applicare l'adesivo Quindi prima cosa che faremo è andare a pulire tutti gli stemmi Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi abbiamo visto come mettere degli adesivi sulla macchina, ovviamente potete replicare il montaggio degli adesivi su qualsiasi vettura. Il procedimento sarà sempre questo. Spero che questo look più aggressivo vi piaccia, a me personalmente mi piace molto di più con questo black al posto del blu, penso che farò anche il resto dei triangolini neri però dovrò comprare un altro kit, vi lascio ovviamente il link in descrizione del kit così potete reperirlo anche voi se avete un BMW. Detto questo ragazzi spero il video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi. Grazie a tutti.